L'Anci Campania ha messo al centro due temi fondamentali, intanto la transizione ecologica, il green, la qualità dell'ambiente, ma l'altro aspetto soprattutto attuale per noi comuni sono le comunità energetiche. Il mettere insieme le nostre comunità è il nostro tentativo forte di far risparmiare i nostri cittadini. Ecco perché siamo pronti a mettere in campo best practice, a fare interazione col terzo settore, col sistema cooperativistico, col sistema imprese per costruire quelle comunità energetiche che possono dare risposte nel risparmio energetico al singolo cittadino e creare le condizioni per anche una qualità ambientale migliore. Adesso sono due i profili importanti che si costruiscono. Intanto viene dal basso, viene attraverso l'associazionismo, attraverso mettere insieme una rete dei condomini perché fanno una loro piccola grande comunità energetica e noi facciamo la rete, li mettiamo insieme, costruiamo un percorso e creiamo le condizioni perché attraverso le energie rinnovabili, attraverso i pannelli fotovoltaici possiamo costruire una piccola comunità che faccia risparmiare fortemente alle bollette dei cittadini. Questo è un elemento fondamentale non solo per i cittadini ma anche per il risparmio di noi enti territoriali perché la pubblica illuminazione e tutti i consumi del patrimonio comunale diventa un elemento fondamentale. Noi siamo la prima comunità.